Amici sportivi, sono io James! Va bene, allora sono io Michele e sono qui con il Godzilla, Luca Franchini, siamo pronti, siamo carichi, abbiamo i puni chiusi e siamo pronti alla rissa perché tra poco andrà in onda una nuova puntata di WWE SmackDown! Oggi ragazzi inchiodatevi davanti alla tv, anche perché dietro non si vede niente, perché abbiamo in programma un super match valido per il titolo degli Stati Uniti, tra il Cavaliere del Vento, Gephardi e l'uomo del ginocchio in faccia, Shinsuke Nakamura, prendete birra, patatine, frittatone di cipolle e rutto libero ragazzi! Vabbè, un programma quello del Frank da far diventare audace e sfacciato anche il ruggero dei tini, ad ogni moda, nuovo tormentone, la canzone dell'estate, sei pronto dietro un fugace pedalò a limonare con la lingua che sa? Dai dai, cosa c'è? Cosa c'è? Vabbè, allora sai cosa faccio se quello è il tuo programma? Io rilancio come a Poker e ci aggiungo che nel ring ci sarà anche lo scontro tra il brutto bulgaro Rusev e l'intellettuale videogiocatore, quasi mi si attorciglia la lingua, Xavier Gutz, in rappresentanza del New Day! E allora facciamo tripletta con The Miz che ha annunciato una speciale intervista sulla John Braddock! Io non so davvero cosa avranno questi due da dire, però forse riusciremo a capire dai loro grugniti e dai loro versi perché sette giorni fa hanno attaccato il video! Speriamo, tu hai il traduttore universale! Vediamo, magari il cerebrale ci vuole! Vabbè, chiudiamo le anticipazioni ricordandovi che ai nastri di partenza scalpitano anche altri numerosi vostri beniamini! Come Naomi, Samoa Joe, Asuka, Becky Lynch! E poi ci sono io, James Hemsworth, l'uomo più bello al mondo, quello col mento perfetto, quello a cui tutte le donne cadono ai piedi! Certo, per le donne! Va bene ragazzi, tra poco si parte qui su Sky Sport, è tempo di WWE SmackDown!